Sì, mi pare strano perché se voglio perché il canale lo faccio io Ma cos'hai detto? Niente, cos'hai detto? No, io non ho detto niente Non sono colpevole Cosa hai detto? Non ho detto proprio di cazzo in questo canale Alzi Ma che cacchio Oh non vai, non sono colpevole Alzati, alzati No Alzati C'è anche lo sfondo di GTA Dai Telefono di merda Bene ragazzi qui siamo Su GTA Come vi avevo promesso con mio fratello Mi ha dato un calcio a bocca se avete visto Oggi Andremo a fare un po' di cose Diciamo non tre Andremo a fare un po' di cose con mio fratello Allora Prima di tutto Volevo Farvi soltanto vedere una cosa Tanto già lo saprete Se fa Volevo farvi vedere Ah boh no Non così Il prossimo video di GTA Starò io con Lorenzo Forse Non lo so Dai stai nel terremoto aiuto Chi è lei? Sei tu? Se ne vai Brava Allora Allora Quindi Quindi Cosa mia Faremo un video Faremo un video dove Faremo dei trucchi di GTA 5 Poi io sono anche partito in Toscana Se avete visto il blog Se avete visto il blog Sono da solo Lorenzo non c'è Ma c'è mio fratello La faccio attivo E' morto Quindi ricordate ragazzi Lo dirò anche in questo video Il blog di annuncio parla Che non so neanche dove sto andando Quindi Il 20 aprile Ragazzi una cosa Dunque il 20 aprile sapete O anche prima Farò il Wuhanan University Team Sarà tutto meglio Però il 20 aprile perché devo preparare tutto Si vedrà anche meglio Molto meglio Buttate in acqua Yeeey Le stelle sono andate a buttare No le mie stelle Non falla mai quella Uuuuuh Ma che cazzo Però prima ti ho fatto il caso No Ciao Ah ma non so Io dovevo andare a stelle Per fare una cosa molto figa Visto che vi ho detto che ho finito GTA Però io come un coglione non Vi ho fatto vedere l'ultima missione di GTA Perché mi sono dimenticato Ma muoio 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 Se io muoio mi ammazzo due stelle Sì C'è due stelle solo per questo Io devo andare a stelle perché devo fare qualche cosa difficile Il carro armato il troppo Bravo carro armato Mi stavo finito GTA Ti danno un sacco di soldi Abbiamo comprato il carro armato Che costa 3 milioni Costa 3 milioni non è che sono tantissimi Però almeno ce l'ho Guarda finisci Ce ne hai un po' di più rispetto ad uno Lo tengo Guardatelo vuole Ce l'abbiamo anche con Franklin E Michael Solo con Michael Con Michael non ce l'abbiamo Il carro armato Con mio fratello gli ha preso un hangar a Michael Come se non fosse un pin Per spendere soldi Ha speso un milione Ora spero si vede bene Spero si veda bene Un chopper bellissimo Qua c'è il bel chopper Vai Trevor Boom Boom Si è vista l'esplosione Spero sempre di si Dov'è una macchina Comunque L'hangar L'hangar di Trevor Lui piace la E c'è un bel importo Che sarebbe l'h Lo sanno tutti Te lo dico Spero di non creare casino Se qualcuno non sa dove mette il tramato Qualcuno non sa dove mette il tramato All'aeroporto Ehm c'è quella cosa C'è quella cosa che potete comprare Ehm Ciao All'aeroporto E l'aeroporto se entrate Non andate più a tre stelle Anzi è vostro Non è tutto Però se prendete Ciao Ciao raga Se prendete un aereo Prendete un aereo La donna non rompere il pene No Boom Boom Tra poi Raga ve lo dovete comprare Il carro armato assoluto Perché è valentissimo Boom Guarda Non vedete Se vedete bene un po' la mia vita Ora mi fermo Guardate la mia vita Se avete dovuto guardare Guardate la mia vita E' al massimo C'è Un po' è persa Va bene ma perché Già ce l'avevo io persa Eh perché Se guarda E sto giocando a GTA oggi Da tre ore Veramente Perché se noi Ci fermavamo E la polizia Poteva fottersi il carro armato Ah raga Questa qua è una cosa pariante Devo cercare di colpire L'elicottero col carro armato Fatto un miliardo di volte Poi Poi comunque Io Tipo Come dire Step Se conoscete Stepney Su Real Power E Vegas Questi tizi TRIO Praticamente Praticamente Hanno fatto questo trio Quindi sono i canali Che come dire Stanno sempre molto insieme E fanno i video molto insieme Non l'ho mai fatto Ma non è una copia Non è che voglio copiare Però Si era venuto per noi Di fare una cosa Con un altro canale Che Ecco Fra poco si infuocava il carro armato Che praticamente Si chiamava Si chiamava The Infernal Game Tiene già molti più iscritti di me Perché loro sono più specializzati Però lo saremmo anche noi presto Quindi The Infernal Game Faremo anche video con loro Tutte e quattro insieme A casa di qualcuno Potremmo fare anche un video online Qualche volta Tipo su Titanfall Io tengo Titanfall Potremmo fare video online Tengo un sacco di giochi Che faremmo tutti Sull'altro canale Università di Tiro Per ora Comunque anche Visto che dovete andare A vedere The Infernal Game Se lo meritano Ora Mi esploso il carro armato Ciao Qui siamo morti Mamma mia Che figlio Che figlio della madonna Che figlio di merda O che stavo dicendo Lasciate tanti mi piace Iscrivetevi Al A questo A questo A questo canale D'Infernal Game D-H-E-Infernal Game Sapete scriverlo Ma io sono co***e Quindi dico Vabbè comunque Questo canale Iscrivetevi Visto che Stanno in classe mia Composto da Fabrizio E Lorenzo Un altro Lorenzo Comunque poi Sapete Un video di GTA San Antonio Faremo tanti video di GTA 5 Poi consigliatemi Eh Siamo arrivati a casa di tre E' verano Consigliatemi anche Se poi volete Altri video di GTA Se Poi Già abbiamo registrato Qualche video Sull'altro canale Sì Non vi preoccupate Ma dove stai andando Sto andando dove mi porta il vento Ma non lo so io dove cazzo sto andando Che è sto posto Alla missione Quale missione Ma se io ho finito il GTA Questa è Forza Ancudo Come già sapete Proviamo a fare Ad andare a Forza Ancudo Già stato Già stato Fabrizio la conoscete Boh Questa è sta missione Ma è un'altra Perché è un'altra Perché è un'altra missione Dai che vanno Vigila Sì ma Gli altri signori vanno Faremo qualche cosa di divertente Ma non so che cosa Non so che cosa cacchio fare Vabbè dai Cambiamo personaggio Cacchio Possiamo andare con Michael Michael Boom No Michael Michael Andiamo con Franklin Vediamo cosa si può fare Da quanto tempo Non usiamo Michael Comunque questo video Durerà poco Fra poco lo concludo Perché tengo l'iPad E il tablet Che cazzo è che sta al 6% di carica 6% 6% raga 6% Fra poco si scarica Parlo anche in romano La donna Sempre a casa Ma che bella Che stia facendo Che stira Che ti stira i panni Terrorista Chiedi Devo andare a fare un po' di paracadutismo Quindi Però ora mi devo far vedere Questa qua Che è una pariata Questo E' frec Però noi gliela mettiamo Burkino Andiamo su abiti un attimo Dove cazzo sta Ah stanno all'inizio Sono un coglione Potete vedere Questo Aspettate E' sul parco inferiore Dove è? Smoking Cavo Ecco Tipo Questo Ed è Non leggete un cazzo Questa qua è l'immersione Immersione Poi c'è Paracadutismo Infatti lo metterò adesso Proprio per andare a fare il paracadutismo Quindi mettiamo un paracadutismo E andiamo Ma mi direi Cerco di andare un po' più La prossima volta Vedete Lo facciamo vedere oggi Però prima Andiamo a fare un po' di paracadutismo Poi consigliatemi nei commenti cosa Cosa vi piace Cosa vi piace fare su GTA Dunque Cosa Dovrei fare su GTA Poi Comunque Visto che voi non volete Lorenzo Mi sta cosa dispiace